ben tornati ben ritornati sul canale prima di partire con questo contenuto volevo ringraziare i tanti tantissimi di voi che hanno speso veramente valore parole splendide nei miei confronti devo dire che in questo mondo social ormai mondo social barra mondo giornalismo sono superato i vent'anni dai dagli inizi era lontano 2000 2003 quando quando feci un pezzo di prova rientrare nel giornale qui della mia zona un pezzo di cronaca di un udinese inter 0 a 0 con un lusiano al secolo eriberto anzi eriberto al secolo lusiano espulso dopo 15 minuti una roba del genere e quindi sono passati diversi anni praticamente fatto tutta la gavetta possibile dai dai tabellini di di seconda e prima categoria fino ad arrivare a alla serie a ormai nel lontano 2010 e devo dire che però sono sono dei commenti che mi hanno fatto estremamente piacere perché non sono banali ma più che complimenti credo i vostri siano dei pensieri sinceri che non penso francamente di meritarli in questa con questa quantità e con questa qualità anzi ritengo che si possa sempre fare meglio e che ognuno di noi io da questa parte voi da quella parte la squadra soprattutto e tutto il club ognuno di noi ha fatto una propria piccola parte e che poi è un po quello che 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 bisognerebbe capire per qualsiasi tipo di dinamica umana qualcuno diceva bisognerebbe saper provare dentro noi stessi ogni ingiustizia che prova qualcuno l'on anche lontano da noi qualsiasi essere umano e quella un po la chiave di tutto perché se ognuno facesse il proprio si viverebbe chiaramente in maniera in maniera differente e questo vale per il calcio ma vale soprattutto per la vita mi viene da dire quindi nessuno più ha fatto qualcosa di particolare ognuno prova a fare quello che può fare per le sue possibilità però è chiaro che volevo ringraziarvi perché sono parole sincere che fanno che fanno che fanno piacere non mi sento paladino non mi sento portabandiera non mi sento leader non mi sento nulla di tutto ciò però è chiaro che vi ringrazio fanno piacere sono uno dei tanti che prova a fare il suo mestiere al meglio mestiere che si è trasformato quello del giornalista nel corso degli anni e la gavetta secondo me è importante partire dalle basi è importante ci sono colleghi arrivati in serie a senza mai aver letto una distinta senza mai essere stati in uno stadio non dico di serie c ma quantomeno di eccellenza di serie d e invece secondo me ti insegna ti insegna come in tutti gli altri ambiti della vita quindi vi ringrazio vi ringrazio davvero tanto e e invece già leggo tanto no per tornare alla nostra cara inter già leggo tanto in in proiezioni futura ma io voglio ancora crogiolarmi nel nel presente voglio ancora pensare a quello che è stato e gustarmi pian piano questa questa gioia perché vi faccio una confessione come era accaduto un po nel 2021 forse anche per una una ragione di di un discorso relativo ormai al al quando e non al se per il discorso scudetto appunto è una è una gioia a lento rilascio non è un'esplosione totale no come può essere come poteva capitare anche negli anni passati non so se è capitato anche altri voi qualcosa di un più più frenato non si capisce se è una questione d'età l'avanzare della rientra più saggio sia nelle sconfitte che nelle vittorie anche se ne sconfitte un po meno e quindi non lo so a me è capitato così e quindi adesso però voglio gustarmela pian piano rilascio lento ecco siamo nel bel mezzo del rilascio lento quindi aspetto ancora a parlare di cordata saudita come riferisce il sole ventiquattro ore di calciomercato si fanno i nomi di zirk zek un monson buongiorno eccetera eccetera tutti i nomi che peraltro avevamo già fatto pure sul canale non scorgo enormi novità e allora io passerei francamente avanti e mi fa piacere che stanotte io ho scritto ieri al buon simone e come ho scritto a tanti altri componenti chiaramente dell'inter perché ci hanno regalato una gioia poi loro sono professionisti ma la nostra è una gioia e noi ci cibiamo di sentimenti non credo di rivelare qualcosa di mi ha risposto ieri notte in zaghi a lune 44 e io gli avevo scritto ieri mattina proprio aspettando perché immaginate se solo al sottoscritto dopo la vittoria dello scritto sono arrivati una ventina di messaggi moltiplicatelo almeno per per cento e immaginate che il telefono di uno come simone in zaghi quanti messaggi possa aver ricevuto e io gli avevo scritto vini con calma ieri mattina rinnovando complimenti tutto il resto e non ha risposto ieri notte a lune 44 ancora sono sveglio da ieri immaginate voi insomma che cosa può rappresentare perché poi qui parliamo no dei protagonisti della della delle vicende calcistiche come se fossero gli omini di un videogame quasi inanimati no invece ragazzi questa è tutta gente come noi carne e sangue e che è vita cioè la loro è vita noi a volte parliamo come mi ci metto dentro pure con molta leggerezza esonerato flop fallimento queste parole che infatti a me non piacciono e quando le uso poi mi prendo un secondo dopo di averle utilizzate per loro ragazzi tratta di vita per noi magari un commento no buttato lì o un'analisi per quanto approfondita che però inizia e finisce lì e per noi sembra è il nostro mestiere no però lo viva in maniera distaccata il giornalista il comunicatore anche quando da un'opinione non brilla di luce proprio a parte rarissimi casi siamo tutti brilliamo tutti di luce riflessa e i protagonisti sono loro non siamo noi siamo dei dei messaggeri per lo più e a volte secondo me con un po' troppa leggerezza addomestichiamo e adoperiamo la vita degli altri quindi quel messaggio vi facca ci fa capire quanto possa pesare un avvenimento di questa portata per noi no da questa parma per loro che la vivono dai praticamente non dormire da 48 ore fondamentalmente no per l'elettricità per la gioia tutto quello che volete però il peso no nel bene è la stessa cosa è traslandola anche nel male quindi sempre bisogna fare sempre molta attenzione alle parole che si utilizzano perché come diceva un altro maestro le parole sono importanti allora ripercorriamo velocemente le tappe secondo me più significative di questa cavalcata che è stata avvenendo una cavalcata vincente da parte da parte dell'inter che merita ancora attenzione che merita che merita ancora celebrazione a rilascio lento mi lascio lento infatti poi la partita per fortuna è stata posticipata dal sabato orario improvvido delle 15 peraltro mi avrebbe negato la mia di partita visto che giochiamo non lo stesso orario invece così posso dare sfogo alla mia bassa qualità da calciatore e si giocherà invece inter torino domenica 12 e 30 o finalmente perfetto così si può sanziarà tutto il tempo per le sfilate e quant'altro le 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 tappe la prima tappa che mi sono segnalato il 13 settembre data del derby derby giocati in casa derby al quale il minan arrivava forte dei risultati positivi l'inter veniva descritta come una squadra ancora in rodaggio 5 a 1 secondo me una partita più equilibrata rispetto ad altri derby vissuti tra in zaghi e pioli ma proprio per quello grossi meriti grossi grattantissimi meriti a quell'inter che finalmente riesce a concretizzare tutto quanto quasi tutto quanto creato e dare a sesta il primo duro colpo una partita peraltro minima dopo la sosta perché c'era stata inter fiorentina 4 a 0 poi sosta delle nazionali con tutte le incognite no e sud americani che si porta a dire la sosta 5 a 1 senza colpo fedele a fine ottobre invece un'altra secondo me partita significa di un'altra tappa significativa del percorso inter roma 1 a 0 perché significativa non tanto per il risultato non tanto per l'avversario ma quanto per il marcatore e chi aveva di fronte la decide tu ram davanti a lukaku una sorta di passaggio di consegne tra lo scudetto 2021 e lo scudetto che poi sarà quello del 2024 ci spostiamo di un mese andiamo al 26 novembre quando a torino si affronta la juve l'inter e questa non è veramente una una delle se proprio vogliamo racchiudere in due tre partite chiave questa è la prima perché l'inter ci arriva col vantaggio e ci arriva e ci arriva un vantaggio in classifica non enorme ma se non ricordo male arriva a più 4 dopo aver vinto contro il frosinone e finisce 1 a 1 con la spaccatura rispetto al recente passato perché perché l'anno prima l'inter prende gol si smonta e ne prende poi un altro e finisce 2 a 0 e invece quest'inter si rigenera subito trova il pareggio che non vedo perché nel frattempo ho fatto fuori il mio 55 pollici e e arriva l'uno a uno ma al di là dell'uno a uno c'è la reazione al gol di vlaovic c'è il gol confezionato da turam e lautaro lautaro gol pesante a torino che gli mancava e c'è un'attitudine alla juve sembra stare bene il pareggio l'inter gestisce da grande squadra le sta bene il pareggio ma perché ne esce rafforzata dalla prestazione invece la juve alla juventus le sta bene il pareggio perché è evidente la differenza non tanto nei singoli quanto globale il mese di dicembre è forse il mese in cui l'inter splende di più va a napole vince 3 a 0 regola con quattro gol udinese potrebbero essere 8 e va a roma con la lazio e anche qui con consapevolezza e per entorietà per entorietà 2 a 0 gol di lautaro e turam ancora loro la tula inizia a mettere mattoni concreti per lo scudetto arriviamo a gennaio prima partita di gennaio alla befana e qui c'è secondo me la seconda tappa cruciale dopo l'1 a 1 con la juve per quello che ti dà proprio come consapevolezza arriva inter verona 2 a 1 forse la prima partita piena di veleni la seconda diciamo dopo il napoli e si comincia a parlare di marotta league eccetera eccetera io ho ricordato lo sapete insomma mi seguite tutto quello che successe quella in quella partita quindi dal probabile possibile fallo su arnauto vi c'è una gestione dei cartellini titubante a rigorino concesso al verona al minuto 100 eccetera eccetera ma si parlerà solo della gomitata che poi non è gomitata è una spallata di bastoni fallosa chiaramente ma non è una gomitata dal quale nasce il gol poi del 2 a 1 e si parlerà solo di quello perché a noi piace così in Italia è un inter che la vince con le unghie ed è una vittoria che a me fa tornare in mente per importanza ad esempio quella di Kiev nel triple e secondo me è una di quelle sliding door chiaramente non a livello di punti ma a livello di convinzione per quello che poi arriverà dopo perché poi c'è la supercoppa e lì si comincia a parlare di sorpasso juve di pressione e iniziano tutte quelle chiacchiere no sul paraocchi su su guardie ladri sinner gioco e c'è chi più ne ha più ne metta la juve in particolare allegri può ammetterla sull'aspetto dialettico perché evidentemente avverte il peso della della competizione e capisce che c'è una differenza di lavoro di ricerca di contenuti calcistici evidente ampia e invece la juve perde inizia a perdere terreno in maniera sorprendente l'inter va a firenze con zommer eccetera eccetera e rigore in zona ma vince 1 a 0 arriva inter juve il 4 febbraio 1 a 0 partita che non ammette repliche per quanto visto e lì l'inter inizia a spiccare il volo la juve inizia a crollare anche perché poi l'inter va a roma contro la roma rigenerata una roma che chiude il primo tempo in vantaggio un diluvio universale il 10 il 10 febbraio con in mezzo già il l'idea della champions quindi tutto quello che ne può conseguire pensieri che la juve non ha io vi ricordo sempre che fare o non fare per una big le coppe cambia sport è un altro sport l'inter rimonta fa quattro gol in un secondo tempo straordinario e secondo me queste due parti questo questo pezzo di stagione con inter atalanta poi 4 a 0 il famoso recupero il 28 il 28 febbraio nel mese di febbraio l'inter spicca il volo la juve crolla sale sale un po il milan che però poi si deve essere un fuoco fatuo e secondo me la la prima partita da campione d'italia in pectore è quella di bologna l'inter va bologna dopo lecce con una tranquillità clamorosa facendo un po di turnover vince 1 a 0 con il gol da terzo almeno da quinto a quinto bastone per bis e mette il sigillo un mese più o meno di chiacchiere ma poco più qualche pareggio qua e lì niente di clamoroso e arriviamo al derby dell'altro giorno che decreta la matematica ma solo matematica perché la proprio discorso di quando e non di sé per lo scudetto nero azzurro poi faremo magari anche un escursus dei giocatori chiave perché ce ne sono di questo scudetto e intanto poi fatemi sapere anche se per voi queste sono le tappe no io racchiuderei in per quanto riguarda l'avvio inter milan 5 a 1 la fase mediana direi inter verona e inter juve e poi la la partita che decreta proprio la chiusura del cerchio secondo me è bologna inter ma lì già eravamo molto avanti con quelli scorso con la chiusura in bellezza del derby con lo scudetto vinto proprio nel derby un saluto grazie a tutti